Qual sogno? Cioè possiamo ancora ragionare? Quindi qual è il traguardo? Dove lamenti la sticella? Dove, insomma, le grande partecipazioni alle coppe internazionali e diventare sempre di più dentro la tua nazionale protagonista o vincere qualcosa a Firenze che tu sai è una cosa non molto facile e chi vince a Firenze è come se avesse vinto più forte. Ecco, fra questi traguardi, qual è quello che ti piace di più e se devi sognare è proprio immaginato. Tutti quelli che hai detto a te. No, a parte scherzi. È una domanda difficile da rispondere, però io penso sempre al presente. Sono molto contento di essere una grande squadra confinatina. Incentrare l'obiettivo di Verstamo, cioè magari davvero andare al centro. Grazie. 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 Grazie a tutti.